amici carissimi del canale lupus del second side ben ritrovati e ancora una volta all'interno di football manager 2021 sono purtroppo costretto a dovrevi dare una tristissima notizia avevo registrato la puntata numero 5 che adesso diventerà quella attuale e avevo fatto tre altre cose anche quattro partite di cui adesso vedremo gli highlights così tanto per essere un attimino a rimanere in tema purtroppo mi sono reso conto dopo la registrazione che l'audio del microfono improvvisamente ha deciso di non funzionare e quindi purtroppo c'ero io che facevo cioè parlavo a vuoto l'audio mio non si sentiva completamente quindi la situazione che vedete in questo momento in classifica come potete ben vedere ci ha proiettato in testa addirittura con quattro punti di vantaggio rispetto alla ternana seconda e a due punti virtuali rispetto al catanzaro che deve recuperare ancora una partita quindi siamo ufficialmente primi in classifica ragazzi senza se e senza ma frutto di quattro partite che avevo fatto vi faccio ora vedere un attimino avevo registrato queste quattro partite qui esattamente avevamo avevo fatto paganese che abbiamo vinto 3 a 0 catanzaro comunque abbiamo pareggiato 0 a 0 in casa abbiamo vinto 3 a 2 a castellammare contro la juve stabbi e abbiamo chiuso il video con la vittoria in casa contro il bisceglie io vi faccio vedere adesso i gol intanto di paganese di paganese catania partiamo quindi subito così almeno rimanete comunque in updateizzati ovviamente se riesco a trovare il la possibilità di farmele vedere vediamo un attimino allora aspettate un attimo ok vi faccio vedere soli gol dovrebbe caricare adesso la teleclonica abbiamo vinto 3 a 0 partita senza se e senza ma se ci dà la possibilità magari di vedere solo i gol non sarebbe male prima una volta c'era l'opzione che ci faceva scegliere cosa guardare della partita comunque qui arriva il primo gol del catania un colpo di testa da parte di tonucci con un fasanne in quella partita veramente non molto irresistibile partita sicuramente subito ecco vabbè ci fa vedere comunque le azioni salienti va bene vediamoci le azioni salienti la paganese non ha fatto granché a parte questo tiro di diop che si è concluso alle spalle diciamo al lato che è stata obiettivamente l'unica squadra che finora c'è a me qui onestamente non lo so fino a che punto non poteva prendere questa palla di pellegrini che si è andata a stampare sia l'incrocio però insomma ma non era fortissima la conclusione e quindi fasanne ha avuto secondo me delle responsabilità anche in questo caso dovrebbe arrivare adesso il gol di reginaldo che verrà ecco qua esatto qua tira al volo qui obiettivamente con fasanne non avrebbe potuto fare un granché e questo invece quindi questo è stato il 3 a 0 del catania sulla paganese poi c'è stato uno 0 a 0 contro il catanzaro big match c'era la partita della giornata era lo scontro tra la prima e la seconda per aggiudicarsi la pole in assoluta solitaria finisce il 0 a 0 partita brutta il catana ha avuto due occasioni ma niente di che e poi si va a castellammare signori una partita veramente pazzesca siamo subito passati in vantaggio dopo un minuto proprio grazie al gol di reginaldo ancora autore di un gran gol fa anche doppietta perché sarà lui a segnare all'ottantunesimo il gol del 3 a 2 finale infatti ci hanno pure recuperato e adesso vedrete gol il primo sicuramente di da bomber da attaccante ottavo gol per lui in campionato quindi nulla da dire lo criticavamo inizialmente perché era poco come dire all'interno dell'azione da gioco però i gol ragazzi di fa non sbaglio un'occasione guardate qui fallo 1-2 con Emmausso reginaldo chiede la palla il tiro e qui un colpevolissimo russo però arriva una bella rasoiata da parte di reginaldo reginaldo e quindi poco da fare ecco il gol arriva al tredicesimo minuto ecco andiamo al tredicesimo minuto quando arriva il secondo gol del catania sempre con reginaldo guardate qui qui una grande botta un gran gol da bomber c'è poco da fare al diciottesimo quindi accorcia le distanze su un cross dalla tre quarti qui cazzatona paurosa di confente confermo il ricordo orribile questa palla se la fa sfuggire delle male arriva al settantottesimo il pareggio della Juve Stabbia con un'azione molto funambolica un batte e ribatte alla fine ventivegna e lì ancora una volta confente ragazzi ha preso 5 vi dico solamente questo e poi arriva il rigore di reginaldo al novantaduesimo che chiude la pratica definitivamente e ci portiamo a casa tre punti pesantissimi per concludere poi con la vittoria in casa tranquilla contro il Bisceie con una rete al trentunesimo di Clayton che adesso vi faccio vedere carichiamo la partita e adesso e quindi poi ci possiamo dedicare ovviamente qui sempre un cross da tre quarti gran colpo di testa ancora una volta portiere spurio colpevole perché si è fatto fare il gollonzo nel suo palo ma poco importa adesso abbiamo un altro big match signori ce la giochiamo contro il Teramo squadra quarta in classifica in questo momento e quindi prepariamoci alla grande signori qua apriamo la giornata con una bruttissima notizia Vicente nostro centrocampista di un certo livello si infortuna per quattro mesi signori quattro mesi perché abbiamo il team giusto ma sarebbero stati dai tre ai sette mesi ragazzi questa è una notizia orribile orribile perché il nostro centrocampo sicuramente subirà la sua assenza abbiamo comunque come sostituirlo si ma Vicente ragazzi era una pedina fondamentale per noi vabbè ad ogni modo apriamo la giornata con Avellino Bari un bello scontro il Bari fa una bella vittoria adesso si va a prendere il quarto posto in anticipo scavalcando il Teramo momentaneamente adesso abbiamo una bella giornata di fronte a noi con un Catania Teramo di tutto rispetto e poi si va a Cava dei Tirreni in trasferta Vibonese Turis, Francavilla, Monopoli, Viterbese, Juve Stabile, Casertana, Catanzaro attenzione questa partita è difficile Palermo Foggia alta partita è difficile Ternana Paganese qui secondo me la Ternana va a passeggiare quindi vediamo che cosa succede abbiamo comunque recuperato un po' di gente ora attenzione perché gente di 34 anni anche no stiamo per entrare adesso nel mercato perché si sta per iniziare anche il mercato di gennaio 25 anni questi qui approvali tutta gente di un certo livello 30enne portiere troppo vole quindi scartiamolo e risultati strani no tranne la vittoria della Turis a Vibo Valencia no per il resto ah la Juve Stabia perde a 2-0 a Viterbo pazzo purtroppo perdiamo Bisente Tabi fa un passo indietro confermiamo Reginaldo lì davanti piccolo del Mauso sulle fasce Clayton e Tonucci coppia d'attacco senza ombra di dubbio confermiamo e ci vediamo in campo partita Catania Teramo subito il Catania con piccolo dalla tre quarti dopo due minuti centro dell'aria palla spazzata riesce a recuperare ancora Persini che allarga sempre per piccolo che potrebbe ancora una volta innescare un costo al centro e attenzione sfioriamo il gol con Mazzarani se non sbaglio già subito Catania aggressivissimo finisce il primo tempo con risultati che arrivano bruttissimi dagli altri campi perché il Catanzaro sta vincendo 2-0 a Caserta noi che stiamo pareggiando obbriosamente contro il Teramo quindi io direi mani sui fianchi non mi è affatto piaciuta la vostra partita cominciamo il secondo tempo in casa facciamo secondo me abbiamo più difficoltà rispetto a quando giochiamo fuori casa dove le squadre avversari si aprono di più ci lasciano più spazi in casa invece si chiudono il Catanzaro invece sta facendo festa grande addirittura col gol dell'ex Curiale attenzione al Teramo siamo al 64esimo minuto piccolo ruba una gran bella palla fa partire il contropiede ma siamo 2 contro 4 schierati tutti bene Reginaldo appoggia benissimo piccolo attenzione e lì non può sbagliare ma che 1-2 a tagliare signori un gran gol questo di piccolo sull'asse Reginaldo ma che gran gol signori che gran gol guardate qui piccolo appoggia Reginaldo fa uno scattino lo vede Reginaldo illumina e lì non esce il portiere battutissimo 1-0 Catania al 65esimo ma sembra che ci saranno altre news perché l'azione riprende e vediamo che cosa succede attenzione a questo Teramo che non molla e non mollerà fino alla fine Arrigoni Pinzauti attenzione Minelli gran parata di Confente 72 su cronometro ancora l'Alteramo che ci sta provando in tutte le maniere ancora Ilari Arrigoni indietro per attenzione Bobaggi confusione ribattuta ma dall'altra parte arriva Minelli in palo incredibile signori equilibrata e diciamo ai nostri di concentrarsi mamma mia che rischio mamma mia che rischio Mercadani è ancora lì Reginaldo potrebbe appoggiare a Dell'Oio lo fa perde la palla momentaneamente la raggiunge piccolo fallo per lui costa Ferreira attenzione è stato già munito ma non viene redarguido meno male siamo all'ottantottesimo minuto tanto per perdere un po' di tempo che ne abbiamo bisogno facciamo uscire chi sta male c'è entrare Kevin Biondi intanto dall'altra parte poi sta giocando malissimo Michele Emmausso entra vabbè al suo posto Alessandro Gatto per qualche scampolo di partita 4 di recupero dei sanciti dall'arbitro che se ne stanno andando affievolendosi così e il Catania batte il Teramo 1-0 ma rischiando veramente ma veramente grosso non siamo stati abbastanza bravi non siamo stati abbastanza bravi queste partite si dovrebbero vincere con un piglio maggiore il Catania vola signori ormai è diventata quasi una lotta a due tra Catanzaro e Catani che è l'unica squadra al momento perché il Laternane è a 7 punti mentre il Catanzaro è l'unica squadra che ci sta praticamente tampinando quindi facciamo partire la comprensa stampa tutto positivo positivissimo e andiamo avanti perché adesso c'è la Cavese in trasferta altra partita molto ma molto delicata 19esima giornata di Canxi 20esima giornata quindi la prima del campionato del girone di ritorno Viscini Viterbese Catanzaro Ternana mamma mia che partita ragazzi qui potremmo veramente approfittare Juve Stabia Casertana Paganese Pellino Bari Vibonese Cavese Catania non è però facile Foggia Virtus Franca Vila Teramo Potenza Turis Palermo e vediamo come va e intanto la Ternana sgambetta il Catanzaro si porta 41 punti e noi potremmo addirittura allungare a 7 punti su tutte e due signori che campionato stiamo facendo squadra che vince non si cambia si va fuori casa non ha importanza con lo stesso piglio e con la stessa determinazione di sempre vedo una Cavese che sta resistendo il primo tempo finisce 0-0 senza arte né parte risultati dagli altri campi il Bari sta battendo 1-0 se non sbaglio la Casertana quindi per il momento c'è il Bari che è andato avanti è l'ora di mettercela tutta ragazzi agita le braccia è l'ora di mettercela tutta no quindi no mani sui fianchi è l'ora di mettercela tutta signori nessuna reazione inizia il secondo tempo sperando che sia migliore del primo attenzione attenzione perché è proprio la Cavese che sta facendo la partita in questo momento bastendo un'azione Esposito perché non perdi la palla lì Matera allarga per Russotto l'ex della partita attenzione è lo schiavetto signori il Catania incredibilmente in svantaggio e non era forse mai successo il gol dell'ex signori 1-0 Cavese sul Catania guardate che gran gol e Russotto signori è uno da avere e il Catania adesso è in netto svantaggio rimproveriamo proviamo a vedere se la squadra reagisce ma attenzione ancora Russotto ancora lui il tiro è 2-0 signori ma che cosa sta succedendo una catastrofe andiamo con mentalità offensiva mamma mia Russotto ragazzi ci ha educati per bene oggi vediamo ancora questo ma qui però la difesa è un po' troppo ferma secondo me guardate che ci siamo lasciati sfuggire e si ciao ci siamo lasciati sfuggire Russotto signori brutta prestazione orribile forse la prima partita orribile fatta dal Catania e ancora la Cavese che attacca ragazzi attenzione a Forte Esposito Catania secondo me è rimasto un po' scioccato da questo 1-2 tremendo della Cavese ancora Forte dentro l'area di rigore il tiro incredibile sfiora la terza marcatura la Cavese ma dov'è il Catania in questo momento ragazzi dov'è attenzione ancora Forte per Geminale Geminale per Russotto Russotto sta facendo quello che vuole ancora Russotto il tiro mamma mia facciamo una sostituzione qui signore dobbiamo correre ripare Reginaldo e Dardo sta facendo schifo non è solo Reginaldo che sta facendo schifo è tutta la squadra che sta facendo schifo facciamo giocare Mariano Izco al posto di Tabi anche Mausso fuori facciamo entrare Piovanello o Gatto facciamo giocare Gatto Gatto al suo posto Reginaldo lo lasciamo ancora in campo perché Reginaldo potrebbe anche cambiare la partita evidentemente non gli sta arrivando niente signori domanda di più ma qua la partita mestamente se ne sta andando verso il binare della prima forse sconfitta in campionato per noi signori si sta realmente concretizzando la prima sconfitta del campionato del Catania attenzione con Fente qui vola partita orribile e registriamo la prima debacle del Catania ad opera di una cavese che non ha rubato nulla signori perché ha fatto la partita noi non abbiamo fatto un tiro in porta forse ora lo facciamo il primo ma nemmeno perché ci stanno massacrando su tutti i fronti vediamo se riusciamo a fare che è proprio un massacro ragazzi e arriva signori ufficialmente la prima sconfitta in campionato finisce 2-0 per la cavese congratulazioni lanciamo la bottiglia il risultato non mi soddisfa per niente demotivato ma sti gran cazzi la classifica non cambia rimaniamo a 4 punti di vantaggio ma che peccato potevamo fare secondo me molto meglio e siamo stati positivi Catania si trova bene con l'Ukus però sta sconfitta non va bene signori apriamo il girone di ritorno con una pessima partita e ora signore si apre il mercato vediamo che cose riusciamo a fare ma non penso che faremo chissà quali cambi direi che siamo ormai alle porte del mercato e direi di farlo nella prossima puntata e direi a tal proposito di chiudere con questa bellissima schermata siamo 10 e lode in sintesi la dirigenza ritiene che tu stia facendo un lavoro incredibile che tu sia chiaramente la persona giusta per questa panchina significa che stiamo facendo quindi benissimo il nostro lavoro e siamo in una posizione di classifica veramente molto molto interessante come vedete la situazione a livelli a livello di voti è più che sufficiente abbiamo 9 7 8 l'unico voto diciamo più basso dell'8 è soddisfatti dei risultati ottenuti da squadra sul campo e quello relativo alle partite magari ancora non si sbilanciano perché c'è tutto un girone di ritorno da affrontare però sono contenti dell'impatto che la nostra tattica ha avuto sulle partite la dirigenza è assolutamente entusiasta nel tuo operato nel calcio mercato felicissima del supporto che hai da parte dei giocatori insomma c'è un'aria di felicità quindi signori direi per l'appunto di chiudere il video qui anche perché ci si prolunga troppo e non va bene prossimo video faremo per l'appunto il mercato dove penso che andremo più che altro a sfoltire vediamo se possiamo immettere qualche giovincello di belle speranze qualcuno già l'ho d'occhiato quindi ragazzi mi raccomando pollice in su se il video è piaciuto iscrivetevi al canale campanellina e non perdete i prossimi episodi di questa fantastica carriera ci vediamo alla prossima ciao